3, 2, 1, via. Nome? Marcello. Signore? Valese. Età? Vent'anni. Città, Natale? Casano. Lavoro? Bartendo. Classico o freestyle? Non so, fare un calcio. Ma freestyle perché? Per venire a Casano Finiziano, non so di una vera. Nome del locale dove lavori? Ansara. Beach, Gallipoli e circa 80 situazioni italiane. Cosa ti piace del tuo lavoro? Niente. Hobby? Persona. Il nome del tuo cartello, Absolute? Absolute di Sunset. Perché dovresti vincere? Boh, non lo so, non voglio vincere. Cosa vuoi dire a chi ti seguirà sul web? Ciao mamma. Fai un saluto? Ciao mamma.